Una giornata normale diventata speciale. Due piacentini sono stati insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere per essersi contraddistinti nell'emergenza coronavirus. Si tratta di Giuseppe Maestri, titolare della farmacia nella piazza principale di Codugno, che raggiungeva ogni giorno da Piacenza anche nel periodo più duro della pandemia, e Giovanni Moresi, autista soccorritore del 118, che ha realizzato un video per mostrare il lavoro incessante degli operatori del soccorso quando il silenzio delle città deserte era spezzato solo dalle sirene delle ambulanze. La dedica a tutto il gruppo del 118 di Piacenza, agli autisti soccorritori, agli infermieri e ai medici con quali lavoriamo ogni giorno. Io mi sento solamente essere qua per rappresentarlo e anche alla mia categoria di autisti soccorritori che non è riconosciuta a livello nazionale come categoria professionale. Quello che portiamo a casa soprattutto la coesione del gruppo che abbiamo fatto per sopravvivere in questo periodo molto difficile e invece quello che porto a casa dalle persone che invece sono state colpite è la paura, la paura che vedevamo negli occhi dei pazienti, dei familiari, ma la paura la avevamo anche dentro di noi perché una casa e una famiglia l'abbiamo tutti noi operatori e fare il proprio lavoro con passione e anche quello di star male lo accettiamo, ma di portare a casa qualcosa che può far star male ai nostri familiari è qualcosa che invece ci ha sempre tormentati molto. Nonostante tutto ho scelto di tornare a casa dai miei bimbi e dalla mia compagna tutte tutte le sere dopo il turno. È stato particolarmente difficile però è anche la parte che mi teneva su di morale che mi faceva sorridere dopo una brutta giornata di lavoro. Sono felicissimo ha commentato il farmacista Giuseppe Maestri, l'unico rammarico è che ho perso il papà 15 giorni fa, era medico e scherzando mi diceva ti faranno eroe nazionale. Non ho mai pensato di non andare, certo ero un po' preoccupato perché ho dei figli ma da subito ci siamo protetti e messi nelle situazioni di non rischiare. I miei collaboratori sono stati bravissimi, ha aggiunto, nessuno è rimasto a casa con scuse strane ma hanno tutti lavorato con lo spirito di collaborazione. Divido con loro questo riconoscimento.